La ragazza che ha sconfitto due volte il cancro diventa infermiera nell'ospedale che l'ha curata. Il cancro non sempre vince. A testimoniare questo c'è Montana Brown che da bambina l'ha sconfitto per ben due volte e oggi all'età di 24 anni ha coronato il suo sogno di diventare infermiera presso l'ospedale che l'ha curata. Difficile che la storia di Montana non strappi una lacrimuccia o almeno un sorriso. Questa ragazza ne ha superati davvero molti e già in giovanissima età. A soli due anni gli è stata diagnosticata infatti una forma rara di tumore del tessuto connettivo. I genitori l'hanno fatta curare dalla Flac Cancer Center di Atlanta in Georgia, dove dopo un anno di chemioterapia il cancro era fortunatamente in remissione. Da allora l'infanzia di Montana è continuata tranquillamente fino al terribile shock della ricomparsa del tumore all'età di 15 anni. Tornata ancora una nuova alla Flac per i cicli di chemioterapia, la ragazza ne uscì vittoriosa anche in quella occasione. È proprio durante questa sua ultima esperienza che maturò l'idea di diventare un'infermiera. Sono state le difficili battaglie che ha dovuto combattere che l'hanno incoraggiata ad intraprendere questa professione in modo da poter aiutare a sua volta gli altri ma anche l'esempio delle infermiere dell'ospedale che l'hanno sostenuta durante quei periodi così difficili. Come ha dichiarato Montana ad ABC News, le infermiere qui sono estremamente amorose, care e compassionevoli. L'amore che hanno mostrato verso di me e la mia famiglia quando ne avevamo bisogno mi ha realmente aiutato. Mi ha aiutato a diventare gentile, premurosa e compassionevole come erano state loro per me. Montana è diventata così infermiera e ha deciso di prestare servizio nello stesso ospedale dove è stata curata. Oggi si ritrova dall'altra parte ed è convinta che l'esperienza che ha vissuto può aiutarla a creare un legame speciale con i bambini che stanno combattendo il cancro diventando per loro una fonte di speranza e ispirazione. Speriamo di leggere più spesso storie come quella di Montana e che tanti bimbi in tutto il mondo possano uscire come ha fatto lei da questa terribile malattia e coronare loro sogni.